della verità millenaria rivelata da Gesù. In questo senso è il grande nostro eroe che è il grigio della cristiana alla vittoria della contro-riduzione del 1799. E chi sa che questa cosa fondamentale non lo dimenticherà mai. Volevo solo aggiungere due parole a quello che ha detto Vincenzo. Volubamente qui non compaiono associazioni, gruppe. C'è soltanto scritto il popolo napolitano. Basta. Perché è un monumento della nostra storia ma è anche un monumento della storia universale. Speriamo soltanto di aver iniziato un piccolo, poche persone, un percorso importante che ci porterà a dargli amare in futuro e soprattutto negli anni avvenuti. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.